Presidente, una domanda, lei è arrivato in questa piazza piena dappertutto, sono piene le strade e pieno il pincio sopra, si stima 60.000 persone, siete arrivati anche voi da Verona, si aspettava una piazza così piena? Prima domanda. Secondo, cosa vuole portarsi a casa a Verona questa sera per i suoi artigiani da qui? Io ci speravo in una piazza piena ed è stata una grande sorpresa, una grande emozione vedere che non c'è spazio da nessuna parte, questo veramente ci riempie d'orgoglio e anche di speranza per il futuro. Cosa porteremo a casa per Verona? Sicuramente l'entusiasmo di oggi, l'entusiasmo dei nostri presidenti di Diretta Impresa Italia e dei nostri colleghi che nonostante la crisi sono qua a protestare, sono qui a portare il loro contributo per cambiare le cose. Secondo me da oggi qualcosa si può cambiare se vogliamo.